Giornata di grande apprezzione oggi sui monti di Cedrasco per la ricerca di una donna di 85 anni che si era inoltata nei boschi alla ricerca di funghi. Con lei c'era il marito. I due coniugi ad un tratto si sono persi di vista in Val Cervia in località le bruciate. L'uomo ha cercato di rintracciare sua moglie ma senza esito. È stato lui a lanciare allarme. Una richiesta di intervento che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Impegnate le squadre dei vigelfuoco del comando provinciale di Sondrio, della protezione civile, del soccorso alpino, della Guardia di Finanza. Per la perlustrazione dall'alto è stato impiegato anche l'elicottero delle fiamme gialle. Nel tardo pomeriggio la donna è stata rintracciata su un sentiero. Stava bene anche se era disorientata. Le squadre l'hanno accompagnata a valle.